Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix e oggi vi mostrerò come usare il nuovo editor di targhe personalizzate di GTA Online rilasciata dalla Rockstar Games oggi su GTA Online. E partiamo subito, questa guida è valida per tutte le piattaforme, anche PlayStation 4 e Xbox One. Per prima cosa dovete andare sul social club della Rockstar Games, vi lascerò il sito qua sotto, e accedere al vostro account social club da telefono oppure da computer. Su PlayStation potete accedervi anche cliccando il logo della PlayStation, mentre su Xbox e PC dovete sapere per forza i dati social club collegati all'account con la quale giocate a GTA Online. Per qualche motivo il collegamento e l'accesso tramite Xbox su social club non funziona già da mesi, quindi è inutile che accedete al social club cliccando il tasto Xbox perché non funzionerà. Cliccate il logo PlayStation oppure inserite il vostro social club e sarete a posto. Se non avete un account social club potete crearlo e poi andare dalle impostazioni per poi appunto collegare l'account PlayStation. Però su Xbox sappiate che se provate a fare questa cosa, ovvero creare l'account social club da computer e poi cliccare collegamento Xbox da computer o da telefono non funziona. Quindi come potete fare se siete su Xbox ma non avete un account social club collegato al suo interno? Adesso vi mostro la procedura, se ovviamente non giocate su Xbox potete schippare al prossimo capitolo. Allora ragazzi per prima cosa andate su GTA Online per Xbox, dopodiché menù di pausa, online, creatore e vi spunterà questa pagina. A questo punto dal PC o dal telefono entrate sulla mail dell'account Xbox Live, sulla mail sia chiaro eh, sull'outlook Gmail, insomma la mail con la quale vi siete registrati su Xbox Live. Dopodiché cliccate su crea account dalla Xbox e da qui inserite tutti i dati necessari. Poi in questa pagina quando vi chiederà un codice di verifica inserite quello arrivato via mail e voilà, avrete il vostro account social club su Xbox. Potete benissimo chiudere appunto questa pagina, tornare in gioco e poi tramite telefono o computer cliccate su accedi e inserite i dati del social club del vostro account Xbox Live che vi siete appena creati sulla Xbox e sarete connessi sul sito del social club. Questo al momento è l'unico modo per creare un account social club e collegarlo al vostro account Xbox e purtroppo dovete sapere per forza i dati del vostro account social club collegato al vostro account Xbox Live, altrimenti ci sarà poco da fare. Ovviamente potete anche creare il social club per il vostro account Xbox su computer e poi fare la procedura che vi ho mostrato poco fa ma al posto di cliccare unisciti al club o una roba del genere basta cliccare su accedi appunto dal creatore dell'Xbox e poi da lì inserite i dati che vi siete creati dal computer. Fatto il login siete pronti, prima di andare sul sito del creatore delle targhe chiamate il meccanico e richiedete il veicolo su cui volete applicare la targa personalizzata. In questo caso richiederò la mia Ennis 300R. Una volta fatto questo collegatevi sul sito che vi lascerò nella descrizione in cima al video e adesso dal computer o dal telefono andate su nuovo ordine, scegliete che tipo di targa volete sul veicolo e scriveteci il nome sopra. Cliccate su avanti, scegliete il veicolo che avete richiesto adesso col meccanico, poi cliccate su effetto all'ordine e dopodiché aspettate questo sms in gioco che vi arriverà quasi istantaneamente. Per concludere è molto semplice prendete il veicolo e portatelo allo Santos Customs, dopodiché cliccate su elabora ordine e voilà avrete la vostra targa personalizzata. Purtroppo i veicoli sulla quale volete applicare la targa sono solo i veicoli che avete usato di recente ed è per questo che prima di usare il creatore targa consiglio di chiamare appunto il meccanico e richiedere l'auto su cui mettere la targa per far spuntare il veicolo tra i veicoli recenti nel sito. Nel caso in cui nella lista non compare l'auto come detto prima dovete chiamare il meccanico e quando esponata nella mappa rifresciare la pagina, così l'auto comparirà automaticamente nella lista. Potete creare fino ad un massimo di 30 targhe differenti, le targhe non sono modificabili ma potete cancellarle cliccando sulla targa che volete cancellare e poi sul simbolo del cestino e come vedete la targa è stata cancellata. Ho notato anche che inserendo lo stesso nome ma con una tipologia di targa diversa la targa non prenderà spazio anche se verrà comunque applicata nel veicolo dopo che avete cliccato su elabora ordine. Io spero che questo video vi sia stato utile, condividetelo con i vostri amici che giocano su Xbox se stanno riscontrando problemi ad accedere alla social club. Inoltre vi ringrazio in caso voleste lasciare un bel pollicione in su a questo video per supportare il canale. Da ZWheelX è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video! Grazie per la visione!